Il dialogo istituzionale tra sindaci dei comuni della città metropolitana di Messina e Palazzo del Governo sulla delicata questione dell'accoglienza dei migranti è stato proficuo. Il prefetto Francesca Ferrandino ha voluto incontrare ieri i primi cittadini dei comuni chiamati ad ospitare profughi in condizioni d'emergenza. Molti sindaci avevano espresso lamentele per scelte non comunicate in tempo. Noi vorremmo essere coinvolti e credo che il messaggio sbagliato che è passato sulla stampa nazionale e che siamo comuni, i comuni dei Nebrodi sono razzisti. Io non sono assolutamente razzista, io dico che se dobbiamo farci carico dobbiamo essere coinvolti dal prefetto, dobbiamo essere massimamente informati. Semplicemente per manifestare l'assoluta disponibilità da parte di noi sindaci ad essere attori protagonisti nelle scelte, nelle precisioni e nello spirito di collaborazione che devono sempre contraddistingue le istituzioni. Il prefetto Ferrandino ha riferito che il bando per i centri di assistenza straordinari e l'attivazione capillare del sistema degli SPRAR consentiranno a breve una più ordinata distribuzione di migranti sul territorio tenendo in considerazione sia i diritti degli stranieri che le esigenze dei comuni ospitanti. Sindaci soddisfatti al termine dell'incontro, mentre le istituzioni locali messinesi e non solo continuano a gestire come possono emergenze di dimensioni internazionali.